Questa volta ho parlato del Cenacolo perché Leonardo è protagonista della stagione dell'Expo e perché il Cenacolo è uno dei luoghi più belli dove si possa andare. L'esperienza estetica è fortissima, si ha questo senso di trasparenza tra ciò che si vede e ciò che non si vede e quindi per una volta i volti, le mani diventano gli strumenti docili dello spirito e questo è un punto d'arrivo per l'arte, come dice Goethe, una chiave di volta da cui poi dovranno partire tutti quelli che sono venuti dopo. A mio avviso l'incontro di oggi è particolarmente importante, non tanto e non solo dal punto di vista artistico quanto direi proprio come persone che vivono a Milano, a Milano e nei dintorni che frequentano Milano. L'ultima cena di Leonardo è sicuramente il luogo più visitato di Milano, tant'è che intorno al Cenacolo si muovono ormai meccanismi commerciali enormi, si stanno cercando sponsor per aperture prolungate ed è a causa della presenza di quest'opera straordinaria a Milano che Palazzo Reale propone in questi mesi coincidenti con l'Expo una mostra dedicata a Leonardo da Vinci. Anche qui sicuramente giornali e media vi hanno raccontato le difficoltà dell'allestimento, le difficoltà dei prestiti, insomma non avremmo potuto fare una mostra a Milano dedicata a Leonardo che è vero, è vissuto a Milano ma che è nato a Vinci e quindi questa mostra i fiorentini l'hanno sentita un po' come uno scippo se a Milano non ci fosse quest'opera straordinaria che è il Cenacolo per cui io mi sento comunque così felice e così fiera di essere a Milano perché vedrete un'opera non come le altre che lascia un profondo segno nell'emozione ma direi anche nella concezione della bellezza di ciascuno di noi. Vi propongo la storia del Cenacolo, direi delle chiose intorno al Cenacolo non si può dire tutto perché sul Cenacolo bisognerebbe rimanere per giorni però cercherò di darvi delle letture più divulgate e altre più rare in modo da ritrovare con voi la sensazione che tanti viaggiatori hanno avuto davanti al Cenacolo. Il titolo di questo incontro, Le voci del Cenacolo, è un titolo che vuole far riferimento a due momenti dell'opera. Una, e lo vedremo, sono le voci degli apostoli e dei protagonisti ma io idealmente penso anche alle voci di tutti quelli che sono arrivati al Cenacolo, viaggiatori illustri, meno illustri, bambini, stranieri, milanesi, in epoche in cui il Cenacolo aveva fisionomie molto diverse da quella attuale e anche di questo parleremo. Parlare del Cenacolo quindi è mettere un tassello fondamentale, una pietra di volta alla storia della città di Milano e per questo ho scelto di cominciare con un'immagine così drammatica perché quando passiamo oggi davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e vediamo magari i bambini che giocano a pallone, i turisti che chiacchierano davanti all'ingresso del Cenacolo, non pensiamo mai a che cos'era quel luogo oggi così incantevole quando c'è il sole come in questo momento, ha visto queste cose terribili che vedete in questa fotografia. Nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 1943 Milano è stata bombardata dall'aviazione anglo-americana, un numero infinito di tonnellate di bombe cadute sulla città e il grande complesso domenicano della chiesa delle Grazie è stato quasi completamente distrutto. Questa immagine è terribilmente eloquente, il convento aveva anche una splendida biblioteca quattrocentesca che è andata completamente dissolta. Ora sfioreremo spesso nell'incontro di oggi il tema del sacro che è un tema per la verità che fa sempre l'occhiolino quando si parla di arte, perché l'arte non è utile nel senso più comune del termine, più pragmatico del termine, però dà un senso a quello che cerchiamo di fare, a quello che compiamo durante l'arco di vita che ci ha concesso. Quindi essendo l'arte una pratica non di immediata utilità, ha parecchi punti di contatto chiaramente con la filosofia e quindi con la concezione del sacro. Io penso che possiamo tranquillamente parlare di un miracolo, magari di un miracolo laico, se non siamo credenti, nella conservazione dei due pezzi più straordinari del complesso delle grazie. La grande tribuna di Donato Bramante che vedete ancora in piedi e che poi tra breve vi mostrerò come è oggi e quel refettorio del convento domenicano che viene mutilato integralmente di una parete, ma proprio la più fragile delle quattro pareti, la parete settentrionale, resta in piedi ed è la parete su cui Leonardo ha dipinto il Cenacono. come mai questo complesso così importante artisticamente in un luogo che per la Milano del Quattrocento è comunque verso l'esterno della città? Perché la piccola chiesa delle Grazie, che era una chiesa progettata dall'architetto Solari, viene scelta dal duca di Milano, Lodovico il Moro, come mausoleo per sé e per la propria sposa. Ed è per questo che il primo intervento all'interno di questa chiesa, ripeto una chiesa quattrocentesca come ce n'erano tante a Milano e come per fortuna ne restano ancora tante, tetto a capanna, tre navate, luminosa ma senza grandi invenzioni e novità architettoniche, questa piccola chiesa diventa il capolavoro che conosciamo. Guardatela qui, questo è l'interno della celebre tribuna bramantesca. Donato Bramante arriva a Milano alla corte di Lodovico il Moro, si porta dietro l'eredità dell'umanesimo di Urbino, un umanesimo fondato in buona parte sulle ricerche geometriche, quindi sulla perfezione delle forme geometriche, il tondo, le sezioni del cerchio e così via, arriva a Milano e Lodovico lo incarica di trasformare questa tranquilla chiesetta di campagna in un grande mausoleo che aspira ad avere le dimensioni dei mausolei dei cesari dell'antica Roma. Nel refettorio di questo convento, un convento, ripeto, dominicano, voluto da Gaspare e Vimercati, è un convento che da subito si rivela essere un importante luogo di cultura, accanto alla cupola bramantesca c'è appunto il refettorio del nostro Cenacolo. Se la cupola di Santa Maria delle Grazie resta miracolosamente intatta durante la pioggia delle bombe, ancora più straordinario è che questa parete, già così compromessa dal tempo, che già i viaggiatori del 7-800 vedevano come una muffa in forme sulla parete, ancora più straordinario è che sia rimasta su questo muro. grazie a dei sacchi, si dice, di sabbia, appoggiati alla parete. Qui vedete una fotografia d'archivio con i milanesi del dopoguerra che guardano, direi, non solo con ammirazione, ma anche con esultanza, questo capolavoro salvato. E qui un po' provocatoriamente arrivo alla quasi cronaca, perché sapete che pochi anni fa è stato girato questo film di buoni sentimenti intitolato Monuments Man, di cui la stella è il popolarissimo George Clooney. ebbene, nell'occasione della presentazione di questo film a Milano, tutta l'equip del film è stata portata davanti all'ultima cena di Leonardo, contrariamente, contravvenendo alle regole che i turisti devono mantenere, mantenere e quindi non fotografare. Il gruppo è stato, lo vedete, fotografato abbondantemente davanti a questa immagine così celebre. Clooney fa modestamente, diciamo, da quinta, dietro c'è Bill Murray e qui, in mezzo, questo signore anziano è l'unico dei veri Monuments Man, quello che ha veramente partecipato a questa campagna di salvataggio delle opere d'arte europee. Naturalmente è stato imbarazzante spiegare a questi signori che in realtà il grande disastro delle grazie era stato motivato dai bombardamenti degli alleati. Finisce la Seconda Guerra Mondiale e la situazione del Cenacolo è questa che vedete qui. la parete di destra è completamente rifatta e anche la parete di fronte al Cenacolo, quella che ha la crocifissione del Montorfano, ha subito danni per cui la parete è stata rinforzata creando degli scompensi anche nell'affresco. c'erano questi scranni dove i visitatori potevano sedersi e io ricordo tra i tanti visitatori, tra le tante voci del Cenacolo ci sono stata anch'io, mi ricordo questo luogo buio, indubbiamente di fascino ipnotico, anche se all'epoca ero una ragazzina e intuivo che si trattava di un posto speciale, ma certamente non avevo ancora un'idea precisa che cosa consistesse questa eccezionalità. Ricordo che c'era un pavimento coperto con una moquette, una scelta molto in voga negli anni 50 e questa scelta è stata abbastanza fatale per la conservazione del Cenacolo perché la moquette trattiene polvere, veniva messa in circolazione questa polvere dai passi dei visitatori, il restauratore dell'immediato dopoguerra del Cenacolo, pelliccioli, aveva utilizzato dei batuffoli di cotone divenuti elettrostatici con lo sfregamento e quindi la polvere che usciva dalla moquette si attaccava a questi filamenti rendendo il Cenacolo ancora più misterioso come uno specco buio. Il restauro di pelliccioli che risale quindi la dopoguerra è solo l'ultimo fino ad arrivare a quello più contemporaneo di una serie infinita di restauri come probabilmente vi è stato già raccontato ma io cercherò di raccontarvi tutto questo con un po' più di dettagli il Cenacolo appena dipinto è già malato è già malato per tutta una serie di motivazioni tecniche e quindi da subito già a metà del 1500 l'esecuzione del Cenacolo si colloca tra il 1495 e il 1497 a metà del 1500 già ci sono dei gridi d'allarme il Cenacolo non si vede cadono pezzi stiamo perdendo l'opera più importante della città e di qui il susseguirsi dei restauratori e soprattutto il susseguirsi dei copisti un aspetto affascinante dell'opera che prendiamo in considerazione e che da subito un po' per venerazione nei confronti della fragilità di questo capolavoro un po' per sparpagliare anche intorno in luoghi che non hanno la fortuna di possedere la sua immagine una parte della sua bellezza quest'opera è stata copiata si trovano copie del Cenacolo in Svizzera, nel canton Ticino in affreschi delle parrocchiali lombarde in arazzi come vedremo una delle copie più famose è quella che all'inizio del 600 il cardinale Federico Borromeo fa fare in modo da poterla conservare in ambrosiana sapendo che questa opera meravigliosa presto verrà sottratta dalla morse inesorabile del tempo agli sguardi dei visitatori oggi invece il Cenacolo è così fra l'altro ha avuto da poco una nuova illuminazione grazie ai guzzini questa impresa celebre per la raffinatezza dei suoi impianti di luce una nuova luce che valorizza i colori freddi del Cenacolo e mostra in pieno la meraviglia dei colori di Leonardo che il restauro celebre magistrale compiuto dal 1982 al 1999 ha messo in luce ed eccolo qui scomparsa la boquette la sala come appare oggi con alcuni dei frammenti delle decorazioni a festoni su questa parete le finestre aperte in questa parete non sono tutte del periodo di Leonardo sono state aperte anche nell'ottocento due in particolare naturalmente la volta lo avete visto è stata tutta rifatta e così questa parete è stata tutta rifatta resta la parete del Cenacolo vi dicevo la parete settentrionale del refettorio e la parete immediatamente antistante quella dalla parte opposta con la crocifissione del Montorfano i domenicani fecero aprire nel 600 questa porta che è stata poi murata che è stata chiusa evidentemente con i restauri oggi l'accesso al refettorio avviene da questa porta il refettorio è lungo 35 metri approssimativamente ed è largo quindi questa è anche la larghezza del Cenacolo quasi 9 metri quindi il Cenacolo è alto poco più di 4 metri e 50 e largo come vi dicevo quasi 9 metri vi dicevo da subito il Cenacolo viene guardato come la polvere delle ali delle farfalle una bellezza straordinaria e nello stesso tempo incredibilmente fragile così quando il re di Francia Luigi XII arriva a Milano nel 1499 anche se viene per portare guerra e cambiamenti di governo nella nostra città si rende conto della difficoltà di conservazione dell'opera e la fa copiare con un cartone che diventa poi la base per l'arazzo che vedete il Cenacolo doveva essere già difficilmente leggibile se è vero che chi ha disegnato il cartone ha trasformato completamente l'architettura del fondo reinterpretando la visione del Cenacolo in chiave cinquecentesca con archi classici con la loggia eccetera è vi dicevo una delle tante trascrizioni del Cenacolo che compete con la Gioconda nella sua forza di icona senza tempo che riesce ad attraversare le epoche degli uomini assumendo di volta in volta significati che si fanno vicini all'epoca contemporanea e voi sapete che io cerco sempre di utilizzare questi incontri per elevare una specie di canto d'amore a Brera a Brera che è la mia passione direi in qualche modo la mia casa e voglio quindi cogliere un momento importante della storia del Cenacolo di contatto tra Brera e il Cenacolo perché io penso e lo vedremo con Leonardo che la vera forza del genio consiste nel cogliere i rapporti tra i vari aspetti del mondo che abbiamo intorno e quindi questi rapporti adesso in questo caso cerco di segnalarveli io raccontandovi una bella storia questo signore che vedete qui probabilmente lo avete sentito nominare più volte è stato segretario dell'Accademia di Brera durante il periodo di Napoleone quindi agli inizi dell'Ottocento si chiama Giuseppe Bossi è stato pittore è stato restauratore poeta, meneghino amico di Carlo Porta un personaggio di grande peso nella Milano degli inizi dell'Ottocento un uomo che non doveva lasciare indifferenti sia per il suo carattere sia per la sua intelligenza sia perché no per la sua bellezza che è stata segnalata e raccontata dagli scrittori contemporanei ebbene Bossi litiga con l'istituzione di Brera in particolare con l'Accademia di Brera e si ritira dal ruolo di segretario e si mette a lavorare per conto proprio si mette a lavorare per conto proprio continuando una commissione che aveva ricevuto dal figliastro di Napoleone cioè Eugenio di Boarnè vicere di Milano che gli aveva detto per cortesia fai anche per me una copia del cenacolo affinché io possa vedere con più frequenza e come se il tempo non lo avesse mangiato questo capolavoro e Bossi ritiratosi dall'ambito pubblico copia con grande attenzione il cenacolo traendone dei disegni che dovranno poi confluire nell'esecuzione di un mosaico adesso ve lo faccio vedere eccolo qui naturalmente del cenacolo al tempo di Bossi si vedeva già molto poco o per meglio dire si vedeva un cenacolo che non era di autografia leonardesca ma piuttosto un cenacolo pasticciato da tanti restauratori che avevano ciascuno messo il proprio zampino nell'originale leonardesco e quindi per cercare di ricomporre esattamente l'opera di Leonardo Bossi trae ispirazione sì da quello che vede sul muro del cenacolo ma anche dalla copia del Vespino che Federico Borromeo aveva commissionato appunto a questo pittore per poter a sua volta avere il cenacolo davanti agli occhi quindi Eugenio di Buarnè commissiona al Bossi la ripresa del cenacolo Bossi fa i disegni fondandosi su Leonardo e sul Vespino la bottega di marmoraro romano del Raffaelli specializzato in micromosaici cioè in piccolissime tessere di mosaico di pietra compone questo enorme mosaico di cui vedete un pezzo che doveva appunto essere sistemato a Palazzo Reale per il Buarnè questo Raffaelli era appunto l'erede di una bottega di lapicidi romani esperto in mosaici minuti un'arte molto diffusa a Roma di questo Raffaelli quando andate a Palazzo Reale potete vedere quel famoso centrotavola che spesso distrae l'attenzione dei visitatori quando si entra nelle mostre allestite al palazzo ebbene Raffaelli fa questo mosaico poi però Napoleone viene sconfitto a Waterloo il governo cambia arrivano gli austriaci gli austriaci non vogliono che questo capolavoro questo mosaico resti a testimonianza della superiorità del governo francese nella città di Milano fanno scomporre il mosaico in tante sezioni e impegnando un numero importante di muli di asini fanno portare il mosaico ripeto diviso in pannelli al di là delle Alpi fino alla città di Vienna e oggi questo mosaico fatto su cartone del Bossi e realizzato da Raffaelli si trova nella chiesa dei minoriti a Vienna appunto ma la storia non finisce qui allora Bossi muore nel 1815 anno del congresso di Vienna e le opere i disegni del Bossi quelli che vedete qui vengono a far parte del legato testamentario dell'artista che va passa nelle mani dell'amico di Bossi Gaetano Cattaneo il quale prende questi disegni eseguiti dal Bossi e li offre a Carlo Augusto di Sassonia cioè al sovrano di Sassonia il sovrano di Sassonia in visita a Milano si invaghisce di questi disegni che il Bossi aveva tratto dal Cenacolo li acquista e se li porta a Weimar a Weimar c'è il il nuovo Leonardo quello che è stato definito il Leonardo della modernità cioè il grande Johann Wolfgang Goethe questo intanto che vedete è il ritratto di Gaetano Cattaneo zio di Carlo Cattaneo e lui come vi dicevo a ereditare la biblioteca le collezioni le opere di Giuseppe Bossi è lui a riuscire a vendere alla duca di Weimar i disegni che il Bossi fa del Cenacolo e i disegni partono appunto per Weimar a Weimar c'è questo straordinario personaggio il consigliere Aulico che qui vedete in un ritratto fatto nell'epoca in cui riceve i disegni del Bossi a Weimar Goethe ha una storia speciale con il Cenacolo era venuto in Italia nel 1786 aveva visto una piccola replica del Cenacolo in una miniatura a Roma e ne era rimasto affascinato era poi venuto a Milano aveva cercato di vedere l'originale di Leonardo nel Refettorio delle Grazie e la scarsa luce l'umidità sarà capitato forse chi lo sa in una di quelle giornate novembrine in cui la nostra città doveva essere avvolta dalla nebbia e quindi con i profili ben poco netti insomma Goethe definisce il Cenacolo una meravigliosa muffa se ne torna a Weimar ponzando meditando su questo capolavoro che sembra sparire dissolversi e dare così la sensazione dell'impotenza dell'uomo che si trova davanti a una cosa così bella e non riesce a salvarla grazie al Cattaneo e a Carlo Augusto arrivano a Weimar i disegni del Bossi e Goethe potrà scrivere un libro scrive un libro sul Cenacolo e su Leonardo raccontando la sua affinità l'affinità fra la sua mente la mente di autore del Faust e la mente di Leonardo anche Bossi aveva scritto un libro sul Cenacolo un libro che costava parecchio e Goethe fa comprare al suo duca un'edizione preziosa appunto di questo libro di Bossi il libro di Goethe sul Cenacolo resta per molto tempo non tradotto in Italia fino a che ne parla una donna straordinaria a cui comunque voglio rendere omaggio perché io penso appunto che questi incontri debbano non solo avere una funzione divulgativa ma servano anche un po' a ravvivare la memoria di personaggi che hanno collaborato alla grande filiera della cultura attraverso le generazioni ebbene questa signora che si chiamava Lavinia Mazzucchetti era una germanista germanista in un'epoca così difficile come l'epoca tra fascismo e seconda guerra mondiale pensate essere esperta di letteratura tedesca quando i tedeschi sono lo spettro di tutta l'Europa e lei Lavinia tiene invece in alto l'immagine della Germania di Goethe quindi di una Germania intelligente e profonda ed è lei a proporre addirittura un convegno su Goethe e il Cenacolo e questa è una delle tante storie che si possono raccontare intorno a quest'opera straordinaria che ha appunto attratto a sé personaggi diversissimi eppure accomunati dall'ammirazione direi senza parole per il Cenacolo Cenacolo che adesso vi ripropongo l'incontro ha la possibilità vi dà soprattutto la possibilità di farvi vedere alcune fotografie che rendono più comprensibile l'eccezionalità del Cenacolo qui purtroppo spesso dedichiamo delle visite forzatamente brevi anche se non superficiali e forzatamente distanti quindi io cercherò di farvi vedere alcuni dettagli per farvi capire perché il Cenacolo è questa icona assoluta ed universale intanto questa è la parete con il Cenacolo appunto ma sopra anche queste tre lunette lunette con dei blasoni il blasone centrale è quello dedicato a Ludovico il Moro e a Beatrice d'Este questo è il blasone di Massimiliano primo figlio della coppia ducale e questo invece è quello di Francesco secondo figlio della coppia ducale non sappiamo se Leonardo abbia realizzato completamente le lunette certo è che le lunette devono essere state dipinte su cartone di Leonardo anche se probabilmente in questa parte meno importante della parete Leonardo chiese l'intervento dei suoi collaboratori ma guardate queste lunette sono una scoperta quando si entra nel refettorio delle grazie non si dedica loro attenzione perché sembrano tutt'altro sembrano distrarre dalla magia dell'immagine sottostante eppure sono molto importanti il rosso di base che vedete è in realtà il colore della preparazione che ha assunto col tempo ossidandosi questo color porpora da frammenti che l'ultimo restauro ha tirato fuori sappiamo che il fondo di queste lunette era blu un blu intenso e stellato d'oro quindi con una fisionomia completamente diversa da quella odierna un po' come le statue classiche tutte bianche sono molto diverse da quelle che dovevano apparire ai marinai che arrivavano al partenone nell'epoca di Pericle vedete l'iscrizione che con le abbreviature ricorda i nomi di Ludovico Ludovico Maria vedete perché tutti gli sforza come i visconti avevano il nome Maria come secondo nome e Beatrice d'este appunto il blasone porta i loro stemmi alternati e tutto intorno ci sono piante palme mele cotogne alloro che vedrete sono dipinte con una inconsueta vitalità in uno di questi blasoni i restauri hanno riportato in luce anche un disegno schizzato velocemente a carboncino di un misterioso serpente non sappiamo a che cosa si volesse alludere chi lo sa forse addirittura un gioco un rebus proposto da Leonardo e dalla sua bottega e guardate che meraviglia queste queste piante che compongono le ghirlande intorno ai blasoni nelle lunette sono di straordinaria bellezza perché Leonardo è e cercherò poi di farvelo capire nel corso dell'incontro è straordinariamente attratto dalle forme che la natura assume nei vari campi ed è convinto che guardando le pietre guardando le piante guardando gli animali ci siano delle forme che tornano in tutti questi campi e queste forme sono le forme che diventano le chiavi di lettura e di interpretazione dell'universo quindi laddove io mi limito a vedere una rosa e dire va che bella Leonardo si domanda come mai la rosa ha questa forma perché avrà questo colore prova a leggere il libro della natura come fosse un libro di segni e vedremo che l'operazione filosofica che compie non è tanto un'operazione logica quanto un'operazione analogica ma cercherò di raccontarvelo poi in maniera più semplice comunque vi faccio scorrere queste immagini queste sono state restaurate nel restauro 82 99 che chiameremo per comodità e restauro Olivetti sono state una grande rivelazione perché si pensava che Leonardo avesse trascurato questa parte tutto sommato così decorativa e invece si è scoperto che proprio questa parte decorativa dà l'occasione a Leonardo per guardare la forma delle foglie ma addirittura dei peduncoli la lunghezza dei rami con un'attenzione che non è quella di chi taglia la pianta e la copia ma quella di chi guarda la pianta viva e cerca di capire come la vita riesca a passare attraverso questa forma e adesso siamo arriviamo al cenacolo e prima di parlarvi direttamente dell'opera do un nome ai personaggi che vi compaiono così quando ve li presenterò li riconoscerete con me al centro naturalmente c'è il Cristo siamo al momento dell'ultima cena e il momento prescelto da Leonardo forse sul suggerimento dei frati domenicani forse di quel Vincenzo Bandello che era priore al tempo di Leonardo è il momento in cui Cristo dice uno di voi mi tradirà uno di voi appunto mi tradirà suscitando negli apostoli presenti alla cena un'onda di emozione e gli apostoli sono suddivisi in gruppi di tre in quelli che vengono chiamate convenzionalmente le triplette allora comincio a dare loro un nome poi li rincontreremo mostrando i loro volti allora il primo è Bartolomeo finirà scuoiato come sapete è quello che poi verrà rappresentato nei dipinti con un coltello in mano finirà appunto scorticato questo che gli è vicino è invece Giacomo Minore il figlio di Alfeo mentre questo vicino a lui il terzo della tripletta è Andrea il pescatore lui finirà invece sulla croce che diventerà appunto la croce di Sant'Andrea mentre la tripletta fondamentale è quella costituita da Giuda Pietro e Giovanni e Giovanni dall'altra parte passando oltre il Cristo Tommaso che è quello col dito sollevato verso l'alto con l'indice puntato verso il cielo Giacomo Maggiore che ha le braccia spalancate così il dolcissimo Filippo che tiene le mani sul petto a far da collegamento con l'ultima tripletta è Matteo che indica il Cristo e si volta vestito d'azzurro e poi i due vecchi dell'estremità della tavola Giuda Taddeo e Simone siamo all'interno di una stanza illuminata da tre finestre nella parete di fondo con un soffitto cassettonato e con una serie di arazzi mill fleur appesi alle pareti come vi ho spiegato per comodità conventuali venne aperta una porta tagliando i piedi del Cristo quindi rendendo illeggibile una parte della sezione inferiore dell'affresco Leonardo quando deve dipingere il cenacolo ha sicuramente nel proprio pensiero una lunga serie di ultime cene che ha veduto nella sua città d'origine Leonardo è nato nel 1452 in aprile quindi sotto il segno della riete è nato da un notaio messer Piero e da una donna che si chiama Caterina che messer Piero non sposa Caterina è probabilmente di origini umili e così Piero si risposerà più volte cioè si sposerà più volte e darà a Leonardo dei fratellastri la madre Caterina doveva essere una domestica qualcuno ipotizza addirittura una schiava turca fondandosi ma tante sono le illazioni su Leonardo sul ritrovamento delle impronte digitali di Leonardo che spesso per ottenere il famoso sfumato utilizzava le dita analizzando queste impronte digitali alcuni storici hanno trovato che i caratteri dell'impronte sono simili ad impronte che si trovano in Medio Oriente di qui l'ipotesi che non ha però alcuna testimonianza scritta che Caterina fosse una schiava turca come tante ce n'erano nella Firenze Medicea portata a Firenze e battezzata con il nome più comune che veniva data alle ragazze cioè Caterina le ragazze del popolo che Leonardo sia un figlio illegittimo ha fatto sognare tanti ha fatto scrivere romanzi interpretazioni psicanalitiche certo Leonardo si trova a non essere riconosciuto dal padre quindi non può frequentare le scuole umanistiche le scuole cosiddette alte Leonardo non potrà fare il notaio come il padre ma per essere un figlio illegittimo Leonardo viene diciamo coccolato vezzeggiato e seguito in maniera decisamente eccezionale tanto che a vent'anni entra in una bottega importante di un artista fiorentino che si chiama Verrocchio e a Firenze Leonardo muove i primi passi muove i primi passi di artista e sicuramente se ne va in giro per la città a guardare come sono le opere dei pittori che lo hanno preceduto e suoi contemporanei ora a Firenze è possibile seguire un itinerario meraviglioso tra i colli le chiese d'Oltrarno le chiese nel Borgo Vecchio e questo itinerario ha come meta le ultime cene perché a Firenze nei refettori dei conventi è consuetudine dipingere le ultime cene potrei farvene vedere tante Ghirlandaio si specializza nelle ultime cene ma anche Andrea del Sarto io ve ne faccio vedere una che probabilmente Leonardo non ebbe l'occasione di vedere perché si trovava in un convento di monache benedettine di clausura il convento fiorentino di Santa Apollonia e essendo il convento femminile Leonardo non poté metterci piede ma chissà avrà visto non solo le altre ultime cene ma avrà visto disegni forse addirittura incisioni derivate anche da questa ultima cena che è l'ultima cena di Andrea del Castagno dipinta per il convento di Santa Apollonia a Firenze oggi è stata strappata dal convento che non esiste più è all'interno di uno spazio museale e vi fa vedere alcune delle caratteristiche di questa iconografia nella Firenze del Quattrocento questo è il Cristo e naturalmente la figura contrapposta di fronte al Cristo è Giuda i monaci che entravano nel refettorio dovevano stare in silenzio naturalmente e mangiare e meditare su quanto mangiavano e sul ruolo della cena nelle scritture così spesso mentre mentre i monaci mangiavano un lettore scelto tra di loro leggeva ad alta voce le pagine del Vangelo quindi la rappresentazione doveva essere un momento di riflessione un momento direi quasi di identificazione e bisognava che la cena fosse estremamente chiara il soggetto fosse chiaro allora in questo caso Giuda è particolarmente nero scuro di capelli e di barba e è contrapposto al Cristo è senza aureola mentre tutti gli altri apostoli hanno l'aureola ma guardiamo adesso gli altri apostoli vedete che hanno delle tipologie estremamente convenzionali ci sono delle figure che io non riconosco come Pietro come Filippo come Giovanni sono delle figure riprese da un repertorio antico e convenzionale Andrea sembra piuttosto attratto dalla bellezza dei finti marmi che dipinge alle spalle della tavola e dall'architettura che deve alludere ai luoghi dove avvenivano le cene nell'antica Roma grazie